Giacomo Ferrara in Sardegna al Figari Film Festival. Non è la prima volta che partecipi a questa manifestazione? Beh, è un festival che conosco, sono già stato qui cinque anni fa, c'è un'atmosfera bellissima. Il festival è fatto di ragazzi appassionati di cinema e quindi è sempre bello tornare qui. Ti abbiamo visto recentemente nel ruolo di Aziz nel film Grazie ai Ragazzi di Riccardo Milani, premiato ai Nastri d'Argento. Io volevo capire come scegli in generale i tuoi ruoli, come scegli le storie che ti interessano. Ma come le scelgo? Devono appassionarmi le storie e i personaggi che si muovono dentro. Come quello di Aziz, hai parlato di Grazie ai Ragazzi. È un film di Riccardo Milani, quindi è una commedia che però ha un valore sociale molto importante. e raccontare questa storia aveva una necessità artistica. Riccardo, quando mi ha proposto il ruolo, sono stato molto felice. È qualcosa con cui ha sfidato il mio essere umano, nel senso che la situazione dove si muovono i personaggi è sicuramente una situazione difficile, quindi entrare in un mondo del genere e anche a porsi dei problemi che quotidianamente non mi trovo ad affrontare. Ed è un film che ha portato un bel dibattito, cioè un film con il quale ho girato con piacere, con Riccardo, e ogni volta che veniva proiettato la gente aveva poi voglia di parlare, di parlare del film, della situazione dei personaggi appunto e quindi è stato qualcosa di veramente emozionante. Fai parte di una generazione di attori e attrici molto interessante. Ero curiosa di capire se fra di voi c'è una sorta di competizione o se vi confrontate e parlate fra di voi dei ruoli che girerete. Qualche volta con gli amici stretti sì, ma non è per una questione di invidie o altro. Anzi, io credo che l'invidia sana faccia bene, nel senso che se un mio collega fa qualcosa di veramente bello e io lo reputo tale, è sempre una spinta a fare qualcosa di meglio anche nel mio lavoro. Quindi ci sono tantissimi miei colleghi che stanno facendo bellissime cose e quindi è di grande ispirazione anche per me. In Suburra di Stefano Sollima e poi nell'omonima serie di Netflix ha interpretato Spadino che è entrato nell'immaginario collettivo, un personaggio molto forte. Volevo capire da te se hai avuto il timore di rimanere incastrato in un personaggio che possiamo definire iconico. Ma sai, ci può essere il pericolo, però poi se uno non ha fretta, continua a studiare, e decide di avere pazienza e di scegliere il percorso giusto da fare, credo che non ci sia questo problema. Il problema sussiste se non hai le competenze per uscirne, se sei effettivamente come il personaggio. Nel mio caso, fortunatamente, con alcuni di loro non è assolutamente così. C'è sicuramente un filo conduttore tra tutti i miei personaggi che è quello di sentirsi non nel posto giusto, al momento giusto, di non sapere qual è il loro posto nel mondo. Quello sì, quella è la parte di Giacomo che c'è. Poi ogni personaggio ha la sua storia, mi racconta dei mondi diversi e attraverso loro capisco anche di più me. Ci puoi parlare di qualche tuo progetto futuro? Ci sono tanti progetti in ballo, ci sarà una serie, ci sarà un film che ho già girato, devono uscire. C'è la voglia di tornare a teatro, sicuramente, e quindi vedrò stagione prossima magari di tornarci. Sto scegliendo il progetto giusto. Sto scegliendo il progetto giusto.